E' stato come una bestia, ti trovo una donna bellissima, molto sexy, sai che sei piaciuta soprattutto a tutti i suoi amici, ti trovano proprio straordinario, straordinario, però lui sarebbe anche disposto a rinunciare, perché non vuole rinuncare una famiglia, però ovviamente, come tu ben capisci, l'ultima decisione è stata a te, Ebi, e che fai allora? Ho già deciso, resto con te, perché ti stimo moltissimo, sì ma amare l'uomo? Aiutami a rinunire il letto, e il suolo grande sta nella barrio Pina, sono contento perché capisco che è finito proprio tutto